è venuto a trovarci a un calcio alla radio un grande giornalista Maurizio Nicita buon pomeriggio Maurizio buon pomeriggio e grazie a voi per l'ospitalità ciao Maurizio con te approfondiamo questa iniziativa dell'associazione di cui fai parte che è seconda chance Flavia Filippi di andare a rimodernare strutturare eh mettere a posto nel carcere di Secondigliano una cittadina dello sport dopo che a marzo ricordo fu presentato anche un campo da basket con la FIP che dava il suo patrocinio ti chiedo un po' di illustrarci il di farci il punto della situazione su questa iniziativa allora il il progetto mh è nato proprio è sbocciato in primavera come si suol dire nel senso che proprio nella settimana di Pasqua è stato inaugurato questo campo di basket a Secondigliano nuovo finanziato eh dalla dalla Fede del basket dal presidente Gianni Petrucci che è stato fisicamente presente all'inaugurazione e in quei giorni se ne parlava soprattutto con quel vulcano che è la nostra presidente di Seconda Chance Flavia Filippi che giornalista della Sette anche abbastanza noto come volto e ehm tutto nasce appunto da 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 questa scintilla continua che si è creata anche perché secondo io c'è una direttrice molto in gamba che mi piace salutare che è Giulia Russo e anche educatori eh veramente che vanno oltre le proprie manzioni e sono capaci di porsi a cuore aperto nei confronti di persone che hanno bisogno e che hanno soprattutto bisogno di rialzare la testa e di ritrovare una dignità col lavoro ecco perché su tutto è cito eh Gabriella Di Stefano educatrice veramente molto preparata e dal dal colloquio con loro dal dal confronto che che io ho avuto anche il privilegio di di seguire per per un anno e mezzo di vita associativa che ho vissuto da Napoli nel mio ultimo periodo lavorativo a Napoli e è nata l'idea dice ma perché fermarsi a questo campo perché sistemando quello di basket e sfruttando altri spazi in disuso è nato questo progetto che ha diversi mh diversi soggetti eh che partecipano ricordo che c'è Sport Senza Frontiere e la Fondazione Integno si è creato eh quello che ormai viene chiamato crowdfunding comunque la raccolta fondi per dirla in italiano e già siamo a buon punto perché il progetto prevede la spesa totale di trecentomila euro e il progetto è stato presentato è stato approvato ehm perché comunque eh quando devi lavorare con un carcere con le carceri in generale devi avere tutte le autorizzazioni dal dal DAP dall'autorità cioè del del Ministero di Grazie e Giustizia si è fatto tutto l'iter e proprio adesso in questi giorni è stato presentato eh il progetto che eh ha bisogno dell'ultima sfinta cioè di 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 un'ultima partecipazione ma su cifre abbastanza abbordabili per quello che riguarda imprenditori che hanno intenzione di mettere la faccia secondo me su un progetto che mh migliora Napoli e migliora Napoli perché eh sbagliamo quando pensiamo nelle carceri bisogna buttare le chiavi e lasciare tutto lì dentro mh chiaramente ci sono delinquenti incaliti che non non riesci a a recuperare la vita civile ma c'è una maggioranza carceraria ve lo assicuro perché un pizzico l'ho toccata con mano senza voler fare l'esperto però si tocca con mano quando si entra nelle carceri gente che magari ha sbagliato una volta nella vita e che ha voglia di rialzare la testa e oggi voi sapete nel meridione d'Italia quanto è complicato e difficile trovare lavoro noi come associazione seconda chance nasciamo nel 2022 con questo scopo primario creare un ponte fra imprenditoria e carcere perché all'interno delle carceri ci sono anche eh grandi professionalità soprattutto di persone che se avendo motivazioni altissime a riprendersi la propria vita e la propria dignità ehm poi sul lavoro riescono a rendere parecchio e abbiamo esempi anche a Napoli importanti e c'è un nome eh su tutti che voglio ricordare Enzo Bestetti che è un eh un carcerato di Secondigliano che ehm iscritto all' Università Federico II perché c'è una convenzione e che ormai ha gli ultimi esami di architettura. Lavora al centro Anton Dorn eh grazie appunto al ponte creato da la seconda chance ormai da un anno e mezzo e fra i dipendenti più apprezzati per la qualità professionale che dà e presto probabilmente Enzo potrà anche uscire definitivamente dal carcere a un'altra persona che è un persona nuova. Ecco questi sono i piccoli fatti, le piccole gocce che servono a a a migliorare la la vita nostra sociale quindi quando parlo di questo progetto è anche un piccolo appello agli imprenditori napoletani di farsi coinvolgere in questo e in altri progetti a tener presente che oggi eh assumere un un detenuto può comportare anche degli sgravi fiscali che da la legge smuraglia del duemila. Quindi ci sono eh tante cose che magari non si conoscono all'esterno ma che facilitano il reinserimento di persone che hanno sbagliato una volta nella vita e chi è che non ha sbagliato una volta nella vita. Assolutamente sì. Visto che siamo proprio in chiusura ti chiedo di brevemente di eh dirci cosa eh includerà la città dello sport? Ho letto dei campi di padel. Detto del campo di basket ci sarà un campo di calcio tutto nuovo con eh un terreno in sintetico interamente ristrutturato perché praticamente era diventato uno spazio di uno sterrato dove comunque ci giocavano un po' a pallone ma non era proprio l'ideale e poi due campi da padel che saranno anche campi da sfruttabili come campi da pallavuro e anche una palestra interna cioè un locale al chiuso dove si potrà fare palestra si potranno fare eh altre attività quale possono essere che sono il pilates, lo yoga, tutte quelle attività eh di palestra potranno essere fatte e noi eh faremo in modo aiutiamo e stiamo lavorando per portare dei professionisti dello sport eh all'interno a fare dei istruttori. Questo è anche importante far capire che il carcerato non è un cittadino di serie B quindi noi cercheremo comunque non solo di concludere il progetto ma di portarlo avanti sempre con il supporto fondamentale del della dirigenza del carcere e dell'organizzazione interna ma porteremo il massimo delle professionalità per far sì che la gente si senta al centro di un progetto e che quindi quel recupero sociale sia meno complicato. Degna di lode è questa iniziativa quindi facciamo i complimenti a Maurizio Nicita e lo salutiamo. Scusate i complimenti li giro a Flavio Filippo e a tutta l'organizzazione io sono una gocciolina in questo mare che speriamo in questo fiume che speriamo diventi mare. grazie davvero a Maurizio Nicita per aver impreziosito un calcio alla radio ciao Maurizio buon lavoro. Ciao a tutti e un saluto ai vostri radio ascoltatori e sempre Forza Napoli Forza Napoli sempre